Mi orgoglio di poter presentare il ritorno del Gran Premio di Imola a fronte persino del dovuto, che era inevitabile l'assi così annullamento dello scorso anno a fronte di quella tragedia che ci ha colpiti e di cui ricorrono proprio questi giorni la ricorrenza. Per noi Formula 1 vuol dire motori, vuol dire motor valley, vuol dire ciò che è un tratto distintivo e straordinario della nostra terra. Sapete che abbiamo girato tanto il mondo in questi anni, io ho fatto 21 missioni intercontinentali, in tutte le decine di missioni in Europa e ogni volta che vado, non vi dico che cosa ne guardiamo, è l'unica regione al mondo che porta il nome di una strada e anche questo credo possa essere molto significativo rispetto al valore che hanno le due e le quattro ruote nella nostra cultura, nel nostro e persino nella nostra capacità di garantire opportunità di lavoro e di fare impresa. Grazie.